Noi siamo chiaramente per una pagina che va voltata per questa città, esistono oggi le condizioni per un futuro che sia un futuro totalmente diverso dal passato. Queste condizioni sono legate naturalmente a un quadro normativo rispetto al quale siamo tutti in attesa di una sentenza dalla quale dipende il futuro, la sentenza del Consiglio di Stato. Per noi il futuro è quello della decarbonizzazione totale per quanto riguarda lo stabilimento dell'Ilva, ma il futuro riguarda soprattutto tanti investimenti che devono essere fatti oltre, accanto, al di fuori di quello che è il tema della siderurgia. Il futuro di Taranto sarà un futuro che sarà legato a tante altre cose, cose importanti come sono qui in visita all'ospedale, quindi alla futura facoltà di medicina, questioni che hanno a che vedere con il futuro della ricerca, dell'innovazione, con il futuro ruolo del porto, con tanti aspetti che sono quelli su cui noi abbiamo intenzione di seguire questi investimenti e fare la nostra parte. Esistono oggi 1.800 milioni di euro che sono disponibili per il PNRR perché siano utilizzati a favore dei cittadini di Taranto, delle famiglie per una Taranto totalmente diversa dal passato. Questo è il senso dell'essere qui per quanto mi riguarda, intanto è ascoltare, capire, vedere e soprattutto dire quanto il Partito Democratico abbia voglia di accompagnare insieme alla Regione, insieme alle amministrazioni locali, questo cambiamento e abbia voglia di un cambiamento che sia radicale e totale. Questo è quello che dirò e quello che voglio condividere con i cittadini, con le famiglie, con le tante imprese che ci sono a Taranto e che vogliono un futuro, che sia un futuro totalmente diverso rispetto al passato, che è un passato rispetto al quale posso solo dire una cosa. L'Italia intera deve risarcire Taranto, deve essere un qualcosa che accade e accadrà per i prossimi anni in modo continuativo, massiccio, perché quello che è accaduto nei decenni scorsi ha bisogno appunto di un impegno di risarcimento da parte di tutto il Paese. L'Italia intera va verso un futuro che è un futuro di sostenibilità, la sostenibilità dei costi, è giusto che questi costi si paghino ed è giusto che il costo di questa transizione, di questi cambiamenti in nome della sostenibilità, siano costi che ci carichiamo tutti interi come comunità nazionale.